Sto registrando di nuovo Se si inizia a vedere di merda Perde il concetto di avere un bel Diciamo che comunque Come ho registrato io è accettabile No i video su youtube Pure buoni sono no Figlio di troia Allora che ora è 39 Bella a tutti ragazzi Qua il buon shark o shore Sta registrando insieme a Quella merda di Ross Chissà se questo video Riesco a metterlo su youtube Se lo faccio non lo so Numero 1 guardate che kill fa Guardate 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 Vi faccio vedere pure i settaggi grafici Di shark o shore Guardate Opzioni Video Guardate 2k Con 130% Di scala risoluzione Quindi in teoria Sto giocando a 3.020 per 1.800 P Credo Comunque Allora Sì sì io gioco sempre così Ross E vabbè mi mantieni i 144 fissi Cazzo me frega no Quanto stai giocando? 5k? E 3k E 3k in teoria dovrebbe essere questo 3k e mezzo Perché già 3000 per Così è un 3k e mezzo Di risoluzione Tanto in fin dei conti Sempre a 144 Riesco 130 144 frame Mi da sempre Quindi che cavolo me frega 2080 TA In fin dei conti Se me lo permette Non ha senso Almeno ho più qualità Lo so Avere troppi Lo so Lo so questo Ti piace averla Visto che hai la scheda Però Troverei un compromesso Non parare al massimo Però Sono gusti Sì lo so Lo so Hai ragione su questo Però Ma caccato alla minchia Quello Ora muore Nein Varù Ragazzi Mi dovete seguire Dovete iscrivere Al canale Non rompete i coglioni Vi raccomando Perché Shark of Shore Ci tiene Ho 20 iscritti Per adesso Però Ci tengo Ci tengo Che aumentano Gli iscritti Dai In fin dei conti Vi faccio pure divertire Chi cazzo Vi fa divertire Così nei video Nessuno Più di me Cazzo c'è Dio Dio Rosso Non seguite gli altri Seguite solo a me Guarda Guarda che è bello Giocare con Shark Hai visto come muoio Guarda che è bello Allora Quanti minuti 42 Ok Quando l'ho avviata Boom Guardate il bastardo Silenzio Ora l'ho fotto Da dietro Questo è uno Silenzio Mi sente? No Non ci credo Non ci credo Ma come fai a non morire così Dai Con l'EK Devi Mus Mus Ma sei anche in live tu? No 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 Ok Adesso C'è un'opzione Che ti dice Stream E in automaticamente Registra Sì sì Potrei anche farlo Però uguale C'è ve ne rendete conto? Guarda io sparo Arrivano sempre un po' In ritardo i colpi Ma che cazzo è? Oh oh Sai il ping Come mi ha aumentato A 56 Ma perché? Lo Che merda Ma come cazzo fai? Da dove? Polla Amori Secondo me Farò un casino Di Di visualizzazioni Sono troppo minchione Quando registro Sciarco shot Incredibile Numero uno E effettivamente Sciarco Tu sei un po' Un minchione Lo sapevamo Ma smetti A buttare Lo accettiamo Eh ok Ok Facciamo una ragione Grazie Grazie Ross Sei molto gentile Grazie Numero uno Ricordo Guardate Sciarco Che potente Quanto sto facendo Che merda No Guardate i nemici Come spuntano Dal nulla Vabbè ragazzi Io chiudo il video Per Sto un po' Testando Ancora Suo BS Ci sentiamo Alla prossima Ciao Ciao